I mattoncini è il set più grande di sempre, una riproduzione dell'anfiteatro Flavio che incanta non solo i più piccoli. Antonella Pallante. Un'opera degna dell'ammizione di Roma, destinata alla gloria eterna. I radigli come il Colosseo da poter letteralmente ricostruire nelle proprie case grazie a un set da record di ben 9.036 pezzi degli iconici mattoncini. Il più grande è realizzato fino ad ora, 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità. E questo non è solo un gioco da ragazzi. Abbiamo scoperto proprio che gli adulti amano perché è un qualche cosa di rilassante, è un qualche cosa in cui si cimentano che permette di dare sforzo alla loro passione e creare quelli che sono prodotti più iconici. Il costruttore Rock Zgalding Covey ha detto che la sfida più grande nel disegnare, nel progettare questo modello è stato quello di riprodurre la monumentalità del Colosseo. Una riproduzione meticolosa dell'originale, colonne d'oriche, ioriche, corinzie, le volte, replicate persino le diverse tonalità che segnano l'invecchiamento subito in due mila anni. Un set unico che per legarsi ancora di più a Roma sceglie un vero e proprio set cinematografico a cinecittà. E proprio il Colosseo aveva già ispirato nel 2012 il master builder australiano Ryan McNaught, noto come The Brickman, per una versione incredibile in 3D con più di 200 mila mattoncini. Un pezzo unico che sta girando nelle varie parti del mondo in musei e mostre.